Radio W0, Radio W0, suona ciò che ami, più suona e più l'ami. Radio W0, 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 Radio W0 Sabato prossimo per testare la mia forma Devo dire che in un percorso abbastanza tecnico ho corso abbastanza bene Anche se non sto al top della forma Vincere è sempre bello, è una grande soddisfazione A me piacciono i percorsi anche sali-scendi Perché io vengo da Altamura, quindi anche lì si sale e si scende Comunque mi sono divertita Dovevo testarmi per i campionati italiani di sabato a Dalmine E quindi è stata un'ottima prova, sono soddisfatta